Buongiorno, buongiorno, non pago, va benissimo, gentile, non pago, va bene, mi porto senza alcuna maggiorazione, dovrei essere pagato entro 15 giorni, in alternativa pagamento, basta, ecco, via, carta, bravo, 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 facciamone un altro, chi è che segue il poliziano? No, ma facciamolo a tutti là! No, non è stato un poliziotto.